risate e attualità oggi nel cartellone della mostra del cinema di venezia promette divertimento e riflessione il nuovo film da regista di valeria bruni tedeschi le stivans presentato fuori concorso e interpretato dalla stessa regista con pierre arditi valeria golino e riccardo scamarcio il film con diversi riferimenti autobiografici racconta l'estate di una regista nella villa di famiglia in costa azzurra punto sempre fuori concorso anche american d'arma documentario di errol morris dove il regista intervista il suo ex compagno di università steve bannon stratega di donald trump fino alla rottura dell'estate scorsa e ideologo della nuova destra statunitense che guarda con interesse ai movimenti sovranisti del vecchio continente punto in concorso sfilano invece 22 giulai del regista britannico paul gray grace che porta sul grande schermo la strage di utoia e nuestro tiempo del regista messicano carlos erigadas che indaga sulla r e l'attività dell'amore raccontando rivoluzione di una crisi di coppia